Offrire soluzioni flessibili che vanno incontro alle esigenze del mercato è questa la sfida del futuro, un futuro sempre più incerto a causa della pandemia da Covid-19 che sta interessando il mondo da un anno e più a questa parte, sconvolgendo le più basilari regole economiche di mercato. Sono tante, tantissime le persone in difficoltà ed è per questo che bisogna adattarsi sviluppando prodotti finanziari che tengano conto delle incertezze del futuro. E' questo in sintesi il concetto espresso da Enrico Mascetti, CEO della BMW Bank nel corso della cerimonia di premiazione per il riconoscimento di BMW Bank Dealer Ambassador 2020, assegnato a Nicola Barbato, amministratore delegato del gruppo Center di Salerno. Per noi il tema della digitalizzazione è uno dei mezzi attraverso i quali creare e mantenere i rapporti con i clienti, le parole di Mascetti, ascoltiamo. Noi abbiamo creato dei prodotti finanziari e delle situazioni per le quali il cliente ha anche totale libertà di uscita, quindi un contratto finanziario non è una gabbia. Garantire un adeguato supporto per individuare i migliori servizi finanziari possibili mediante una consulenza personalizzata a 360 gradi insieme alla trasparenza dei dati fiscali sono gli strumenti più appropriati per battere la crisi del settore dell'automotive determinata dall'emergenza pandemica Covid-19. Le parole di Nicola Barbato, amministratore delegato del gruppo Center di Salerno, ascoltiamo. È un riconoscimento che ci inorgoglisce e ci fa capire che il lavoro svolto dal nostro team in questi mesi è un lavoro che è stato percepito dal cliente, volto sempre a garantire all'interno delle nostre strutture una customer experience che sia premiante e soddisfacente per i clienti.